Oroscopo del giorno, mercoledì 21 luglio 2021 Ariete Amore In questa giornata Venere sarà favorevole. La sua buona posizione vi garantirà un bel mercoledì in amore, con il partner o con una nuova conoscenza se siete single. Potrete godervi tutte le emozioni e sentimenti che verranno. Lavoro Potreste sentirvi poco forti ed energici. Occhio a un po' di stress per oggi. Toro Amore Potrebbero esserci ancora dei piccoli disagi o disguidi nei rapporti, anche in quelli di coppia. Dovrete avere pazienza, visto che da domani le cose andranno finalmente molto meglio e vi sentirete tranquilli. Ne beneficeranno pure i single. Lavoro Sul posto di lavoro sarà un giorno abbastanza tranquillo, dove non mancherà il da fare. Gemelli Amore Oggi la luna sarà sfavorevole e la sua opposizione non aiuterà umore e relazioni. Da domani poi si aggiungerà anche l'opposizione di Venere. Attenzione a come vi comporterete nella vita di coppia, ma anche in una nuova conoscenza. Lavoro Attenzione a qualche possibile rallentamento o contrattempo professionale. Cancro Amore Un po' di pazienza per questa giornata. Nelle prossime ore potrete usufruire del sostegno del pianeta dell'amore. Dovrete tenervi quindi pronti per un recupero sul fronte sentimentale e finalmente arriveranno buone nuove anche per i single. Lavoro Novità e cambiamenti positivi in arrivo. Siate ottimisti e fidatevi di Mercurio. Leone Amore Venere sarà in buona posizione e questo di luglio sarà un buon mercoledì. Le stelle vi aiuteranno a chiarire con il partner. Se siete single invece vi spingeranno di più verso una persona che vi interessa veramente. Lavoro Questa potrebbe essere una giornata davvero buona. Novità, risultati e soddisfazioni non si faranno attendere. Vergine Amore Giornata tranquilla per i rapporti di single e impegnati. Da domani invece la passione e il romanticismo potrebbero giocare un ruolo fondamentale per le relazioni personali. Probabilmente sarete pronti ad aprire il vostro cuore. Lavoro Mercurio sarà favorevole e potrebbero arrivare notizie importanti a livello professionale. Occhio quindi alle occasioni. Bilancia Amore Il pianeta dell'amore sarà in posizione favorevole anche in questa nuova giornata del mese. Tutto andrà per il verso giusto con il partner e vi sentirete bene anche in fatto di umore. Possibili colpi di fortuna per i single che vogliono fare nuovi incontri. Lavoro Non così bene sul lavoro, dove potrebbe esserci qualche scoglio da superare. Scorpione Amore Aspettatevi un giorno sereno e tranquillo per la vostra storia d'amore. Se avete avuto problemi e contrasti ci sarà un recupero, un attimo di equilibrio che stava mancando. Cielo decisamente buono anche per chi è ancora single. Lavoro Impegni su impegni. Attenzione a non prendervi troppe responsabilità e cose da fare. Ne potreste risentire più in là. Sagittario Amore Ancora fino ad oggi avrete venere favorevole e potrete godervi tranquillamente la vostra sfera intima. Occhio perché da domani le cose cambieranno e potrebbero iniziare i problemi di cuore. Simile la situazione dei single. Lavoro Bene i progetti, soprattutto grazie alla buona posizione di Giove che vi sosterrà. Capricorno Amore In questa giornata saranno possibili altri trambusti nel rapporto con il partner. Non si escludono nemmeno tensioni nelle nuove conoscenze. Meglio invece da domani perché venere dovrebbe tornare ad agire in vostro favore. Lavoro Tranquilla la situazione lavorativa dove non metterete da parte le vostre idee per il futuro. Acquario Amore Venere sarà in opposizione ma soltanto fino ad oggi. Da domani tornerà ad agire in vostro favore e finalmente potrebbe portare una bella armonia nella storia d'amore. Recupero in vista anche per i cuori solitari in cerca di nuove emozioni. Lavoro Possibile stress, sarà meglio dosare bene le energie e i doveri in questo periodo. Pesci Amore Questa sarà una giornata piuttosto tranquilla per chi è impegnato sentimentalmente. Potrete godervi le emozioni con chi amate ma anche in una conoscenza appena iniziata nel caso in cui siate single e soli. Lavoro Molto bene per l'ambito professionale perché Mercurio vi bacerà e vi sosterrà alla grande. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. iscriviti al canale